È guerra alla sosta selvaggia e alla doppia fila nel comune capoluogo dove da oltre dieci giorni si sono messi al lavoro 24 nuovi vigili urbani. Si tratta delle persone che hanno vinto il concorso RIPAM indetto dalla regione Campania e a tempo indeterminato entrano a far parte del corpo della Polizia Urbana di Salerno, guidata attualmente dal comandante Rosario Battipaglia che fin dal primo giorno di insediamento al vertice dei caschi bianchi di Salerno non ha nascosto le sue perplessità sull'esiguo numero di vigili a sua disposizione per tutelare una serie di servizi nel comune capoluogo. Basti pensare che nel 1989 i vigili erano 286 ed oggi, 30 anni dopo e con una città più grande con maggiori problematiche, basti pensare per esempio al presidio necessario per luci d'artista ad altre competenze, anche con 24 vigili urbani in più, Salerno ha 209 risorse a disposizione. Ma i nuovi caschi bianchi non sono passati inosservati e non certo per merito delle pettorine fluorescenti che al momento sostituiscono le divise ancora non pronte, ma per la quantità di multe che stanno fioccando sui parabrezza delle vetture degli automobilisti indisciplinati. I nuovi vigili presidiano la correttezza della sosta da una parte all'altra della città e si vedono anche spesso nella parte orientale. Ed ora, come spesso accade in questi momenti, la città che aveva chiesto più sicurezza e più controlli si divide tra chi è soddisfatto e chi si lamenta delle multe. Grazie a tutti.